Cari amici telespettatori buongiorno Oggi è mercoledì 14 ottobre, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Canale 8 Diamo subito uno sguardo ai titoli sulle prime pagine dei quotidiani Partiamo dal nuovo quotidiano di Puglia Frecciarossa fino a Lecce, è il giorno della verità Italia con o senza Salento, la risposta oggi da Roma 30.000 firme per rimediare a questa ingiustizia Vedete nelle due foto il Frecciarossa dal 20 settembre arriva a Pescara, Foggia e Bari E questa invece è l'immagine dell'Italia che ci piace Partenza da Milano, capolinea a Lecce Vedete la differenza, quello che si spera dalla risposta del governo E poi il rispetto per una terra in cammino A centropagina, dimesso dal Vito Fazzi, è morto 5 indagati L'inchiesta sul decesso del 25enne di Novoli, trasportato al pronto soccorso per un mal di gamba La protesta delle toglie, caos, tribunale, avvocati in sciopero e aule occupate Taglio basso, sesso con la tredicenne ma è innamorato, assolto, la sentenza dopo la denuncia della madre della ragazza Ancora cronaca, il rogo a Calimera, autocarrozzeria in fiamme, gravi ustioni per il titolare Per il calcio, braglia, sergente di ferro, allenamenti a porte chiuse Il nuovo tecnico del Lecce, presentato nel pomeriggio alla stampa, blinda subito la squadra L'analisi, master plan per il sud, il vero nodo e la gestione Passiamo ora alla prima pagina della Gazzetta di Lecce Emergenza a Xilella, blocchi stradali, divampa la rivolta degli olivicoltori Proteste davanti alla sede della regione Puglia e sulla Brindisi Lecce C'è lo stop del Tar del Lazio al secondo piano Silletti Oggi i sindaci del nord Salento incontrano il commissario straordinario Trasporti, freccia rossa, oggi vertice a Roma In prefettura ieri confronto con sindacati e associazioni pronti a proseguire la battaglia Nel pomeriggio alle ore 17 il governatore Michele Emiliano incontrerà il ministro del Rio E l'amministratore di Ferrovia dello Stato Michele Elia Claudio Palomba, la questione è politica perché l'azienda risponde agli indirizzi Novoli procura lavoro 5 indagati per la morte di Emanuele, Emanuele Levante Aveva 25 anni Lecce, gli avvocati sono di nuovo sul piede di guerra Sempre da Lecce, l'acceleratore lineare è arrivato, il Vito Fazzi partirà entro l'anno Sempre dalla città, la criminalità preparava l'attentato ad un poliziotto Università, arrivano i tagli e parte la protesta degli studenti Poi si parla di Monteroni, non aveva rapito la piccola Rom e chiede 2 milioni di euro Come risarcimento, Monteroni, il macchinista ferito, l'occhio salvo per miracolo L'attrattività dei territori, servono managenalità e brand Passiamo ora alla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno Frecciarossa a Lecce, ormai è battaglia Oggi a Roma il vertice con Emiliano Ieri mattina in prefettura il confronto con sindacati e associazioni La segreteria in Puglia, grandi manovre nel PD Ma il commissario è vicino Trattative in corso e messaggi di pace a Renzi Avanzano le candidature di Amati, Iaia Calvio e La Carra Sabato riunione per rinviare il congresso Il Senato fa sognare Renzi Via libera alle riforme della Boschi Ma le opposizioni non votano Braccio di ferro sulle unioni civili Ai ferricorti PD e Nuovo Centrodestra Votazione 179 sì e 16 no Ora il disegno di legge torna alla Camera Per la quarta lettura Duri, Movimento 5 Stelle e Berlusconi Il Premier, Italia più forte La manovra del governo Alla sanità servono altri due miliardi Sud, passata la festa Gabato il santo Anzi, lo santo La condanna dei grillini alla diversità e all'isolamento Regione Puglia Caso porta borse Il codice etico salva la legge Norme approvate Movimento 5 Stelle vota contro I consiglieri potranno assumere anche più di un segretario Ma un codice etico vieterà di chiamare parenti e conviventi Xilella Il Tar blocca i tagli La protesta blocca la superstrada Brindisi Lecce Stop al piano Silletti Per i 21 ricorrenti di Torchiarolo Sinodo Lettera al Papa Un giallo I firmatari smentiscono Poi il 2015 di Frontex Migranti 3.100 morti E 710.000 ingressi Verso gli europei Parliamo di calcio Il leccese Pellè In Corona Conte Norvegia K.O. Azzurri Primi del girone Caso in front L'inchiesta Bari La nuova Tegola Tifosi increduli Non c'è pace per noi Ed ora Il messaggero In prima pagina Notizie che riguardano Il governo Cambia il senato Meno poteri Via libera Con 179 sì E 16 no Alla riforma costituzionale Le opposizioni in rivolta Non votano Finisce il bicameralismo Perfetto Un caso napolitano Per gli attacchi Di Berlusconi E Movimento 5 Stelle Finanza in Campidoglio Per Marino Sul giubileo Ci metterò la faccia Il premier Gioca la carta A Gabrielli Tangenti Arrestato Vice Di Maroni Appalti In cambio Di lavori a casa Lombardia Bufera In regione Mantovani Trucco Gare Su Dializzati Attentati palestinesi Gerusalemme nel sangue Intifada Dei coltelli Ancora morti Assalto Ai bus Panico In Israele Cucchi Indagati Altri 4 carabinieri 3 per lesioni La novità La novità Della manovra Contanti Il tetto sale A 3.000 euro Non più mille Quindi ma 3.000 euro Ridotti Gli sconti Per chi assume A proposito Dei limiti Al contante La scossa Ai consumi Non è nemica Del fisco Lo studio Meno televisori Più tablet E pc Piccolo schermo Insediato dal web Calcio Diritti tv Anche lotito Nel mirino Crack Parma Ha indagato Galliani Ancora calcio Euro 2016 L'Italia Finisce in bellezza 2 a 1 Alla Norvegia Florenzi In gol Passiamo Alla prima pagina Del giornale Cambia la Repubblica Nasce il senato Papocchio Passa la riforma Boschi Ora ci saranno 10 modi Per fare una legge Altro che Semplificazione Berlusconi Sceglie la Ventino Gli azzurri Lasciano l'aula Mazzata Sulla sinistra Marino Inizia La sua vendetta Il PD romano Crolla al 17% L'appunto Le correnti Dem Regalano Roma Ai 5 stelle IPM contro il vice Di Maroni Appalti e sanità Lombarda In manette In manette Mantovani Renzi Indagini Sulle cene Il costituzionalista Bicameralismo Da quello perfetto A quello confuso Il regime Non cambia volto Cuba Ha già scordato Il Papa 882 oppositori Vanno in cella Le coltellate Islamiche Che straziano Israele Altri tre morti Meglio il lavoro O la maternità La guerra in ufficio Delle mamme in carriera Nasce il maxi colosso Della birra La Peroni Si beve La Budweiser E adesso Andiamo a leggere Le pagine interne Del nuovo quotidiano Di Puglia In questo caso Parliamo Di Frecciarossa La mobilitazione Per ottenere Naturalmente Il capolinea A Lecce Frecciarossa Fino a Lecce È il giorno Della verità Oggi il vertice A Roma Con Del Rio Emiliano E l'amministratore Delegato Elia La rabbia E l'attesa Del Salento 30.000 firme Sul tavolo La petizione Lanciata da quotidiano Si è chiusa Con una cifra Straordinaria Sindacati E imprenditori Dal prefetto Dietro front Di ferrovia dello Stato O pronti Alla piazza L'ipotesi Tra le strade Più battute Per dare il frecciarossa Anche al Salento C'è l'ipotesi Di aggiungere Una coppia Di etr500 Che consenta Al treno Di sdoppiare I convogli In servizio Sulla tratta Questa è solo Una delle ipotesi Il prefetto Una battaglia Legittima Del territorio Le testimonianze Sergi e Maggio In campo Parliamo Dell'attrice Eleonora Sergi E del cantautore Antonio Maggio Che vedete in queste foto Basta Con queste Ingiustizie Ancora Ancora in primo piano L'emergenza Xilella Il batterio killer Il tarra blocca i tagli Dallo stop a Torchiarolo Rischio effetto domino Sì a ricorso Di 21 agricoltori E altri potrebbero seguire Sittin Vedete Questo titolo Sittin a Bari E blocco stradale Scatta la protesta Non ruspe In centro Davanti al Consiglio regionale Poi la manifestazione Sulla statale I 5 stelle Basta abbattimenti Gruppo di ricerca regionale E marcia Il 25 ottobre Il fronte unito Caso Barbatelle Vivaisti compatti Battaglia Per consentire La movimentazione La solidarietà Della categoria L'analisi La risposta di Emiliano Il governatore di Puglia Dice Non si può fare altro Le linee guida Dall'Unione Europea Sono chiare Finanziamo la ricerca Ma non possiamo Sottrarci Le sfide della politica Legge sui portaborse SIE Polemiche Consiglio regionale Vincolo etico Per l'assunzione Dei parenti Nessun limite Per cooptare Ex consiglieri Poi Il caso Commissario Assemblea Braccio di ferro Renzi Emiliano Il premier Fermerà il congresso Ma il governatore Convoca il partito Il destino PD Riunione d'emergenza Ieri a Roma Con De Caro Linea dura Per la Puglia Il valzer Di nomine Gratitudine Verso Liviano E Grassi Resta congelato Tra crisi e sviluppo Patto per i settori chiave Noi siamo in prima linea Guido Gruppo Intesa San Paolo Più innovazione Nelle imprese Confindustria Puglia Favuzzi Un piano per il mezzogiorno Progetto regionale Diritti a scuola Eccellenza Da premio Unione Europea Le pagine di Lecce Out out alla provincia Restituite 23 milioni Lettera del ministero Allente già a secco Da novembre Prelievo forzoso Sugli introiti Delle polizze assicurative Doccia fredda da Roma Il super dirigente Isceri Casse ormai vuote E niente via d'uscita 23 milioni Chiesti dallo Stato Con una comunicazione A Palazzo dei Celestini Due milioni e mezzo L'incasso mensile Dalla quota provinciale Dalle polizze Sull'auto Due miliardi Il taglio totale Previsto nella finanziaria Per gli enti provinciali L'appuntamento Donna Filippo Smaldone La chiesa Festeggia il decennale Mobilitazione tra i fedeli Per la canonizzazione Oggi messa al Duomo E poi La competizione Tiro e corsa campestre I vigili leccesi Sul podio Ai campionati italiani Oggi il confronto Ferro o gomma Il nodo dei trasporti Questo è il tema Che sarà affrontato Presso il museo Sigismondo Castromediano Di Lecce Per questo convegno Parliamo di avvocati La protesta Udienze bloccate E caos Non giustizia Gli avvocati In sciopero Occupano il tribunale Tutti in toga Spazi stretti E disagi Ora basta I cartelli Gli avvocati Alzano la voce Contro una situazione Della giustizia Insostenibile I dati sono Confortanti Nel penale L'adesione All'astensione È stata vicina Al 100% I punti cruciali Le criticità Sul tavolo Da mesi Rimaste senza soluzioni Strutture inadeguate E prive di sicurezza Ricorsi onerosi Con costi troppo alti Patrocino gratuito Protocolli al palo Immobili insufficienti Accorpamenti dannosi L'iniziativa La sede di via Brenta Invasa da una trentina Di professionisti In toga Li vedete In questa foto Poi Le ipotesi Caso Lecce Il governo Pensa al trasloco In una caserma Il presidente Della corte d'appello La richiesta Sul tavolo Della difesa L'associazione nazionale Magistrati Il presidente Tanisi È solo un'iniziativa Che non porterà a nulla I sindacati autonomi SOS Delle forze di polizia Risorse E mezzi scarsi Politica Maggioranza Addio Forza Italia Albivio Consiglieri A quota 5 Berlusconiani Divisi sul futuro A fianco di Perrone Non facciamo gli yes men Calò nel gruppo azzurro Il nodo Comune Di Lecce Senza luce Servono 40.000 euro Per riparare il guasto Dopo le forti piogge Scantinati allagati E centralina elettrica In tilt La polemica Mafia e politica Marra insiste PD guardiano Di trasparenza La scure Sull'università E l'Ateneo Taglia 2 milioni Di euro A ricerca E fondi per studenti Prima manovra di Zara Dopo la riduzione Dei fondi Dottorati Salvi in estremis Risparmi sul personale I numeri 1,2 milioni di euro Bloccati per attività studentesche 700 mila euro Salvati per il ciclo Di dottorato 450 mila euro La prima tranche Nel 2016 Per gli studenti 10 milioni di euro Il taglio stimato Nel 2018 L'altro fronte Dottorandi E precari Vogliamo contare di più Ieri incontro con le proposte Oggi il consiglio di amministrazione E il senato Sulle modifiche allo statuto La polemica Registro associazioni Fuori la casa Delle donne Sanità Vito Fazzi Attesa finita La nuova macchina Contro i tumori Parliamo dell'acceleratore lineare Che è stato installato ieri Nell'ospedale Vito Fazzi Obiettivo Operatività Entro Natale Il cantiere Ecco il nuovo ospedale Vito Fazzi Oggi la bandiera Sul tetto La storia I giallorossi Regalano la maglia Firmata Al piccolo Francesco Ospite all'allenamento Il ragazzo di Calimera Uscito dal coma Si avvera un sogno Benassi e compagni Lo accolgono Con un grande sorriso E questa è una bella notizia Per questo ragazzino Di Calimera Uscito dal coma Lo scorso anno Dopo un grave incidente Stradale Il caso Adozione all'estero Ma niente bimbi I dubbi Dei grillini Il boom Del Salento In nero Cinque turisti Su sei Piaga da risolvere Con il distretto I dati I dati Di federalberghi Potenziare L'accoglienza La proposta Dei sindacati Istituire un bollino Etico Poi Parliamo di Destagionalizzazione Balneari Tutti dal prefetto Aperti anche D'inverno A giorni Vertice con regione E soprintendenza Le speranze Di 220 lidi Provincia in campo Beni culturali E sostenibilità Le occasioni In Albania La cronaca Sesso con la Tredicenne Se è innamorato Non c'è violenza Il caso Fidanzato Assolto Il verdetto Dopo la denuncia Della suocera La decisione Si erano conosciuti Quando lui aveva 19 anni Oggi i due Convivono Scoperta nel centro Storico di Lecce Piante di marijuana Sul balcone E denunciata Una Ventisenne Leccese Il colpo Furto In una traversa Di via adriatica Padroni di casa Al nord E ladri All'interno Della loro Abitazione Fuga Con gioielli E auto L'incidente L'auto Si ribalta Paura per due Giovani E traffico In tilt L'intervento Del 118 Sulla Lecce Maglie Tre giorni Di incontri Urbanistica E sostenibilità Un convegno Parliamo ora Di notizie che arrivano Dalla provincia Da Calimera Fuoco Da una delle auto Distrutta Una carrozzeria Mattinata di paura Ieri per gli abitanti Di via Pacinotti Ferito ad una gamba Il titolare Che cercava Di spegnere le fiamme Rimasto ustionato I danni sono enormi L'incendio avvolto In breve tempo Vetture e attrezzature Lo stabile Invaso dal fumo E annerito L'appartamento sovrastante Per fortuna Disabitato Il racconto Eravamo presi dal lavoro Poi è scoppiato l'inferno Una fiammata Ci ha investito I vetri sono esplosi Dovevamo scappare Ma la porta era chiusa Così con un calcio Ho sfondato la vetrata Questo è il racconto Dei protagonisti Salvi per miracolo Pantaleo Tommasi E il figlio Antonio Novoli Dimesso dal Vito Fazzi Morì il giorno dopo Cinque i medici indagati Presto l'autopsia Sul corpo del 25enne Emanuele Levante Sequestrate dalla polizia Tutte le cartelle cliniche Trepuzzi Finti fruttivendoli Per derubare un'anziana Presi Si tratta di Pantaleo Capodieci Di Trepuzzi 49 anni E Ivan Pascali 38 anni Nato a Lecce Residente a Trepuzzi Campi Corso per professionisti Sull'ambiente sostenibile L'EUCA Statale 275 Infrastruttura strategica Via ai lavori Interrogazione Al Presidente della Regione Del Consigliere Ernesto Abaterusso Il progetto Finanziato da dieci anni E' finora bloccato Galatina Lascia l'assessore al commercio Dimissioni Per motivi personali Alessano Al lavoro Le guardie Zofile Partito il censimento Dei cani Ruffano I lavori in subappalto Erano regolari Assolti due imprenditori La Gallipoli Istituto Nautico 12 milioni Per il recupero Il Presidente Provincia Gabellone Atti concreti Contro le sterili polemiche Sarà un istituto Moderno ed efficiente Il progetto Ammesso nella Graduatoria regionale Ora la parola Passa al Ministero L'iter Il Ministero Bandirà un concorso Di progettazione Su scala nazionale Le reazioni SEL Vinta una dura battaglia Contro la speculazione Soddisfazione del segretario Cittadino Per la possibilità Di recupero Della vecchia sede Del Vespucci Il futuro Occasione di crescita Per tutta la città Gallipoli Flavio Fasano E il candidato Lo vuole la gente L'associazione Gallipoli Futura Risponde al segretario Del PD Da Monteroni Agli arresti Sette mesi Ma era Innocente Ora chiede Due milioni Di risarcimento Giovanni Giancane Fa causa Allo Stato Maglie Coltivava e spacciava Marijuana Arrestato Luigi Zampilli Sessantaquattrenne Campi Sparò i fuochi Per il sindaco Sbagliato Multa di 50 euro Cosimo Cazzetta 33 anni Condannato Per accensione Ed esplosioni Pericolose L'errore Fece festa Per Como Ma aveva vinto Zaccheo Maglie Maglie Niente acque A San Sidero San Sidero Ma l'impianto È in funzione Interrogazione Dei consiglieri Del gruppo PD Tuglie Rifiuti urbani Stipendi In ritardo Si trovi subito Una soluzione Poggiardo La città di tutti Per dare risposte Ai bisogni locali Presicce Possibile È nato Un comitato Per quattro mesi Galatone Sasso Contro il treno Ora resta La paura Si temono Ulteriori episodi Dieci giorni Di prognosi Per il macchinista Ferito Carabiniere A lavoro Per identificare Gli autori Del grave atto Vandalico Contro la Littorina Sulla linea Novo Ligagliano Presicce Treni suddeste Troppo lenti Protestano I pendolari Casarano Cantiere bloccato Riaprite Via Scalella Da copertino Leo Klebb Torneo di calcetto Per un defibrillatore A scuola Nardò Rifiuti Ecotasse in arrivo Nuovo Salasso Per la città Notizie che arrivano Dal Tarantino Per strada Con una bomba Per una bomba Da fare esplodere Arrestato Daniele Angelini Grazie all'abilità Dei poliziotti Il 24 treno È stato bloccato Prima dell'attentato Ancora da Taranto Prestito a Strozo Ad un esercente In manette Un 52enne Le indagini Agenti di Polstrada E squadra mobile Hanno ricostruito L'intera vicenda Disperso in mare Esercitazione aereo Ovale Oggi L'attività delle acque Di Capo San Vito Sarà simulato L'incendio Di una Motonave Dal Brindisino Esattamente Da Ceglia In fiamme Una vettura L'auto È di un operaio Da Ostuni Scontro sulla provinciale È morto anche il padre Nell'incidente stradale Aveva perso la vita Il figlio Dopo un mese di agonia Si è spento Al Perrino Il 67enne Nicola Contento Il figlio Si chiamava Invece Fabio La tragedia Sul tratto Che porta Villa Nova Di Ostuni Da Fasano Scavi non autorizzati Disposto il sequestro Nella cava Dismessa L'intervento Dei carabinieri Del Noe Di Lecce È incontrata Salamina Chiudiamo Con Il calcio Riflettori Puntati Sul Lecce Braglia Il nuovo Allenatore Dei giallorossi Lecce Tira fuori Gli artigli Il successore Di Asta Lancia un messaggio Alla squadra In serie C La qualità Non basta Serve anche altro Sono burbero Dicono così Poi mi conoscono E cambiano idea Se non lo fanno Va bene lo stesso Abruzzese Mi piace Ho chiesto alla società Di reintegrarlo Ieri il Primo allenamento È cominciato il lavoro Del tecnico toscano Un allenamento Che dura solo un'ora Poi il mister Chiude le porte Di Martignano Da ieri pomeriggio E fino a tempo indeterminato Porte sbarrate Per tutti Parla il Direttore sportivo Trinchiera Traumatico L'addio di Asta Braglia Saprà dare La svolta La spinta Di Amodio Piero È un vincente Ha riportato Le vespe In B Dopo 60 anni L'ex difensore Del Lecce Direttore sportivo Della Juve Stabia Conosce molto bene Il nuovo tecnico Dei Salentini La curiosità Al sud Ha vinto pure A Catanzaro Il parere I tifosi Serviva una scossa Il Toscano È l'uomo giusto I supporter Approvano la scelta Di cambiare La guida Tecnica Bene Questa era L'ultima notizia Termina qui La nostra Rassegna stampa Io vi rimando Ai prossimi appuntamenti Con l'informazione Alle 12.30 Con l'edizione Flash Del nostro Telegiornale E poi Alle 14.30 La prima edizione Del TG8 Grazie Per la gentile attenzione Un buon proseguimento Di giornata E Alla prossima Alla prossima